e distributori automatici. Crediamo che il Governo debba impegnarsi nei prossimi provvedimenti a trovare soluzioni alternative per non gravare su settori in difficoltà come l'editoria o sui consumatori. Concludo. Abbiamo ripetuto più volte che il rigore da solo è negativo. Senza misure proattive per la crescita, i sacrifici fatti saranno vani quando non controproducenti. Allora diamo atto volentieri al Governo che questo provvedimento va nella direzione giusta. Ci auguriamo che prosegua su questa strada con decisione. È un buon inizio, ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare più veloci e più lontano. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Crippa. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Colleghi deputati e deputati, ci troviamo a recepire in ritardo dopo l'apertura dell'ennesima procedura di infrazione alla direttiva 2010-31 EU sulla prestazioni energetiche in edilizia. Il test approvato alla Camera presentava e ahimè presenta ancora in talune parti numerose incongruenze lessicali che non si tramutano in linguaggio tecnico. Sì, perché pare che si tratti di tradurre la direttiva UE modificandone il meno possibile in modo tale che la stessa UE non ci metta nuovamente in mora dietro alla lavagna per non aver recepito correttamente il contenuto. Peccato che in molti casi alcune definizioni siano completamente slegate dalla realtà, quale, cito titolo di esempio, quella di sistema tecnico per edilizia. Cosa sarà mai questo sconosciuto? Da ex osperatore del settore rimarrei a pensarci una giornata per poi non darvi una risposta. Chiedete ai tecnici che poi con queste leggi ci devono lavorare e devono trovare il modo di applicare alla quotidianità. Un sistema tecnico per edilizia può essere un sistema brevettato di posa di blocchi rettificati per edilizia, un sistema di apertura di un componente finestrato, un sistema di climatizzazione invernale estivo, una serratura di una porta e potrei proseguire per almeno mezz'ora con altri esempi. Non è possibile non tenere conto di questa incomprensibile vaghezza dei termini indicati, dato che gli stessi sono utilizzati come criteri di esclusioni dall'obbligo dell'applicazione di tale norma. Vi cito ad esempio il testo recita. Edifici cui utilizzo standard non prevede in installazione l'impiego di sistemi tecnici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture estragionali. Questi sono criteri di esclusione. Mi dite voi cosa sono i sistemi tecnici qui indicati? Quindi se ho un capannone con un impianto di videosorveglianza oppure un semplice citofono, data la stratezza del concetto di sistema tecnico, rientro o non rientro nell'obbligo di attestato di prestazione energetica? Abbiamo provato a migliorare il test in molte sue parti. Le modifiche introdotte dai lavoratori in commissioni sono state tutte di buon senso e opportune e il giudizio non riguarda solo quelle proposte dal Movimento 5 Stelle. Non si capisce come, a differenza della direttiva UE, si stava dando una definizione di impianto termico a un servizio di riscaldamento con potenza maggiore o uguale di 10 kilowatt. Un'invenzione tutta italiana. Ma se parliamo di edifici a energia quasi zero, come fate a parlare di 10 kilowatt come potenza massima di un impianto? È evidente che il generatore debba avere potenza inferiore, altrimenti nell'assurdità del test approdato in commissione ci saremmo trovati il paradosso di avere edifici a energia quasi zero, non certificabili energeticamente, dato che da definizione l'impianto sotto i 10 kilowatt non era considerato un impianto termico. Questa è ovviamente un'assurdità e quindi vi chiederei man mano di affrontare in maniera un po' più decisa dal punto di vista tecnico le questioni e non cercare di limitarvi a introdurre numeri senza comprenderne probabilmente l'origine e il senso. Siamo sicuramente contenti di questa proroga, di questo sistema di incentivazione per il rilancio del settore del risparmio energetico, anche perché è evidente che ormai il settore dell'edilizia sia unicamente basato su questi tipi di interventi. Pertanto averlo prolungato per alcuni sei mesi diamo un minimo di respiro alle attività imprenditoriali in tal senso. Bisognerebbe però capire che in passato infatti la convivenza degli incentivi del 55 e del 50% era evidente a tutti gli addetti ai lavori che spesso dati gli obblighi di prestazione e certificazione richiesti dal 55% venisse erroneamente consigliato di dirottare sul 50% privo di obbligo di risultato e quindi sostanzialmente ottenevamo che la signora Maria che doveva intervenire sul proprio immobile consigliata dall'operatore del caso si trovava a fare degli interventi di ristrutturazione energetica finti o minimi soltanto per il fatto che non aveva l'obbligo di rispettare dei requisiti. Avendo in certo qual modo discriminato in maniera pesante la detrazione dal 50 al 65% in questo modo diamo sì un peso perché la differenza del 5% era minima. La signora Maria in certo modo guardava il suo portafoglio e diceva il 5% evidentemente posso perdermelo. Nel 15% questo ragionamento deve essere un attimino ricalibrato. Come anche ho riportato da alcuni pareri delle commissioni permanenti sarebbe veramente opportuno stabilizzarlo. All'interno del decreto è stata inserita un impegno da parte del Governo di stabilizzarlo in maniera definitiva. Se lo riusciamo a stabilizzarlo direi che diamo almeno una prospettiva di continuità a un settore produttivo qual è quello dell'edilizia della riqualificazione energetica. Ricordo a tutti perché forse di più non è dato a sapere che sei mesi di proroga di cui due sono ormai passati dentro quest'aula a cavallo delle due camere non permettono di realizzare e pianificare quegli interventi condominiali che necessitano di delibera di assemblea per la progettazione, delibera di assemblea per ricezione delle offerte da parte delle imprese del settore, appalto ed esecuzione delle opere stesse. Permettetemi un pizzico di ramia. Quale senso può mai avere l'inserimento all'interno del decreto che riguarda l'efficienza energetica di una misura che sancisce la possibilità di detrarre al 50% anche l'acquisto dell'arredamento. Dato che l'abitazione è stata sottoposta a ristrutturazione, al di là di considerare il supporto a un settore che nel nostro Paese ha delle realtà produttive manufatturieri di assoluta importanza e qui intengo ribadirlo noi non siamo per togliere il sostegno al comparto manufatturiero dei mobili ma a considerare l'opportunità di evitare di fare un minestrone. Non possiamo all'interno di un decreto mettere mobili, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione energetica. La gente non ci sta dietro, non riesce a capirle. Vogliamo iniziare a parlare in maniera chiara e netta. L'efficienza energetica è una cosa, la ristrutturazione è un'altra, il sostegno ai mobili è un'altra ancora. Cerchiamo di differenziare perché altrimenti arriveremo sempre al paradosso per cui nessuno riuscirà mai a capire cos'è l'efficienza energetica, anche perché la politica negli ultimi anni si è gonfiata un po' troppo la bocca in termini di efficienza energetica, però siamo qua a ricepire in ritardo una direttiva europea in materia di efficienza stessa. Vi chiederei quindi, al di là di considerare questo supporto al settore mobili, vi segnalo questa criticità ed è evidente. Nel decreto è associato la possibilità di detrazione degli mobili, dell'acquisto dei mobili, salvo aver fatto degli interventi di ristrutturazione energetica. Ma se non poniamo una quantificazione a questi interventi di ristrutturazione globale, non riusciamo a capire effettivamente dove voglio andare la normativa. L'assurdo potrebbe essere che la signora Maria si faccia rintonacare una parete da 10 metri quadri, quindi con 1.000 euro di spesa e parallelamente spenda 10.000 euro per acquistare nuovi mobili. Direi che forse non era l'intento del legislatore, però il problema è che questo errore rimane ed è rimasto all'interno del decreto. Speriamo che il Governo possa assumersi un impegno in tal senso in maniera successiva. Dobbiamo considerare anche positivamente che è stata estesa la possibilità di inserire anche gli interventi di adeguamento sismico all'interno delle detrazioni del 65%. E ovvio ci sarebbe piaciuto estenderlo anche a zone e a categorie sismiche diverse. Incominciamo ad accogliere almeno questa apertura in tal senso. Sperando che nel giro di qualche mese lo Stato italiano intenda valutare con attenzione la situazione del consumo energetico, sia estivo che invernale, dei suoi edifici, al fine di programmare la riqualificazione funzionando da stimolo e da traino, per un settore che in termini di rilancio funzionale ed economico potrebbe dar molto anche a un'economia in una situazione drammatica come quella italiana, apportando il maggior beneficio di abbassare i costi di gestione annuali. Durante le discussioni in Commissione c'è stato detto che gli edifici a carattere residenziale pubblico non potevano essere ovviamente inseriti, quindi quelli dell'ATC, all'interno di questi decreti perché sostanzialmente in qualche modo andavano a gravare in maniera radicale su un comparto di spesa ormai alle ultime risorse. Proviamo però a pensare che il comparto dell'edilizia residenziale pubblica è una questione energetica nazionale immensa. Stiamo parlando di edifici costruiti negli anni 60 e 70 con i criteri della più scellerata edilizia a scopo lucrativo e basta e pertanto ci troviamo degli edifici energivori in classe G che debbono essere in qualche modo riqualificati in maniera decisa. Noi speriamo e lotteremo per far sì che il Governo italiano intenda promuovere un piano di riqualificazione globale di edilizia residenziale pubblica per funzionare da settore d'attraino. Direi che globalmente nel complesso del decreto, il decreto ecobonus è un piccolissimo passo in questa direzione, pertanto annuncio il voto favorevole da parte del Movimento 5 Stelle. Grazie. Signora Presidente, l'Italia continua a soffrire un quadro macroeconomico fortemente critico. È indispensabile quindi mettere in campo provvedimenti che stimolino l'economia, sia dal lato della domanda, sia dal lato della rimozione degli ostacoli della crescita. Il Governo sta facendo molto e bene in questo cruciale campo della sua attività. Si può ricordare ad esempio lo sblocco dei pagamenti pubblici, le azioni a sostegno dell'occupazione giovanile e ancora il rafforzamento del fondo di garanzia per il credito alle piccole imprese, i nuovi strumenti finanziari per le imprese e per le infrastrutture. Ma il provvedimento che stiamo per votare oggi è probabilmente, insieme allo sblocco a pagamenti, quello destinato ad avere gli impatti più visibili e più importanti. Perché si innesta su una misura già sperimentata, introdotta dal Governo Prodi nel 2007, mai molto amata dai governi successivi e che ha già mostrato ottimi risultati. Un milione e quattrocentomila interventi, diciassette miliardi di investimenti attivati, cinquantamila occupati indotti nel settore edile e in quello dell'impiantistica collegata all'efficienza energetica. E perché offre un sostegno concreto a settori che sono fra i più colpiti dalla crisi? Perché non si limita ad un sostegno congiunturale, ma opera in profondità sulle nuove e necessarie strategie per il futuro dell'abitare in Italia, e cioè ristrutturazione e riuso, stop al consumo di suolo, materiali e tecnologie per contenere i consumi energetici. E anche perché l'ambito di applicazione è stato ampliato nei successivi passaggi di Senato e Camera, elettrodomestici ad alta efficienza, impianti idrici...